ciao ragazze ciao a tutti e a tutti nuovo video chiacchiericcio come state spero bene e da un bel po che stavo cercando di fare questo video ma nulla di fatto voi come state io bene e la tosse ogni tanto c'è ma vabbè me l'ho dovuta nere comunque niente io adesso trovo un po con i piatti e dopo farò altri video ok e niente oggi sono uscita tutto il giorno ma vabbè dettagli e voglio tenere un po con me era in modalità cinema a sto video adesso si dovrebbe vedere meglio perché quando era in modalità cinema non mi faccio impazzire quindi ho detto lo faccio in modalità normale vediamo se viene meglio o meno vabbè dovrò unire tutte le clip che ho fatto poco fa anziché ho fatto uno clip che ho fatto con la modalità cinema quindi andiamo subito al dunque allora devo lavare i piatti quindi andiamo subito al sotto laviamo i piatti e poi farò il mio lettuzzo perché non ne può più di quanto è è mal andato però non mal andato disordinato quindi voglio dirigere a fare video con voi niente 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 no non niente niente Grazie a tutti a presto Bene ragazzi, questo è tutto Io vi saluto e ancora grazie per l'ascolto Un bacio, ciao, a presto Like, commento e iscrivetevi al canale YouTube, ciao Da presto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti